Siamo molto contenti questa sera di ospitare il gruppo Cantare Suonando che presenta il concerto Vita in Musica. Riascoltiamoli, facciamo un bellissimo applauso. Rende i ragazzi protagonisti di eventi musicali, valorizzare potenzialità spesso ignorante, educare la concentrazione, autocontrollo emotivo e promuovere l'autostima dei ragazzi. Questo è il compito che esegue il professor Marco Boccelli e di questo lo ringraziamo. Per iniziare facciamo le curie a tutti i papà, è oggi il 19 marzo, quindi un applauso per i papà presenti, anche se con Lucio Curzel che ci fa sentire piemontesina. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.